La figura centrale volge lo sguardo verso l'osservatore digrignando i denti con un'espressione demoniaca. Il colore applicato con pennellate dense e ampia crea un'immagine dura e brutale, che pure convive con una visione umoristica e fanciullesca. Appel considera la semplice applicazione del colore un'esperienza liberatoria, quasi sensuale. Ama esprimere pura energia, illustrando attraverso strappi di colori violenti soggetti primitivi e inquietanti. Il dipinto è un esempio rappresentativo del movimento Cobra, fondato nel 1948 da un gruppo di artisti di Copenhagen, Bruxelles e Amsterdam. Il movimento rifiutava l'astrattismo della pittura europea del dopoguerra, considerandolo senza vita e troppo passivo, e opponendogli una visione del mondo che cercava ispirazione nei disegni infantili e nelle leggende mitologiche.